Ciao ragazzi bentornati sul mio canale youtube, oggi secondo appuntamento con Top League e andremo ad analizzare quelli che sono i migliori giocatori attualmente secondo me in una Premier League Vi andrò anche a spiegare qual è il modulo migliore col quale poter mettere in campo questi giocatori e qualora ci siano anche delle alternative interessanti, qualità prezzo di quelli che per me sono i migliori ovviamente ve le andrò a presentare Senza perderci troppo in chiacchiere direi di andarci subito a gustare la Top 11 del campionato inglese A difendere i pali della nostra squadra abbiamo Alisson, un portiere super affidabile, 1,91m di altezza, questo vuol dire che dunque risultabile sia per quanto riguarda i tiri da fuori ma anche le uscite in particolare quelle che sono le parate poi in allungo anche con la possibilità di intervenire con i piedi Dalla sua Alisson ha anche un discreto rinvio tipico dei portieri brasiliani e secondo me se la va a contendere parecchio con un altro portiere che è Ederson Un po' diciamo hanno loro il duopolio in Premier League da portiere titolare, se vi serve appunto un portiere io andrei sempre a far ricadere la scelta su uno di questi due giocatori in maniera abbastanza sicura Passando invece a quello che è il reparto difensivo, il primo giocatore che andiamo ad analizzare è il terzino destro ed è proprio un compagno di squadra di Alisson Ovvero Trent Alexander Arnold, nella sua versione Rule Breaker parliamo di un giocatore molto affidabile, 1,80m, work rate alto normale che per un terzino potrebbe spaventare Ma state tranquilli che assolutamente non è un problema, 3 di skill e 4 di piede debole, le skill non ci interessano più di tanto, il piede debole invece top Perché per quanto riguarda la fase di uscita magari se capita un passaggio col sinistro abbiamo la garanzia o comunque un'alta probabilità che non ce lo vada a sbagliare con insomma abbastanza facilità Abbiamo poi statistiche che parlano per lui perché è un giocatore molto veloce, i passaggi anche sono buoni 80 di agilità, 80 di equilibrio, 86 di reattività per cui vuol dire che con l'L2 si muove bene Pecca un pochino in aggressività e in forza però poi le statistiche difensive sono assolutamente dalla sua Perché abbiamo 83 di lettura difensiva, 86 di contrasto in piedi, 85 di intercettazione Per cui parliamo di un giocatore veramente top completo che permette di fare ottimamente entrambe le fasi E che io al momento a livello di qualità preferisco a tutti gli altri terzini destri che ci sono in Premier League Soprattutto magari quelli un po' più inflazionati e mi riferisco in particolare a Walker Visto che ormai Cancelo è stato dirottato a sinistra e lo vedremo a breve Difensori centrali, in questa Premier League io vado a selezionare Antonio Rudiger come primo Nella sua versione anche qui Rule Breaker, 1,90 di giocatore quindi veramente gigantesco Normale alto il walk rate, 2 di skill e 3 di piede debole Parliamo di una carta che ha 85 di accelerazione e 84 di velocità scatto Degli ottimi passaggi, pecca un po' in equilibrio ma è facile che questi difensori non abbiano grande equilibrio Visto che parliamo sempre di giocatori non molto tecnici e molto alti Per cui è facile che abbiano degli attributi così e così Però poi in game alla fine questo non si va a tradurre in giocatori che magari inciampano sugli avversari Ma al contrario Abbiamo poi delle statistiche difensive veramente eccezionali In particolare l'88 di lettura difensiva che rende questa carta estremamente automatica E in più l'85 di forza e l'89 di aggressività Che fa sì che questo Rüdiger si attacchi veramente molto bene all'avversario Finché appunto non riesce a recuperare il pallone Quindi veramente super promosso Rüdiger E a fare coppia con Rüdiger come difensore centrale Andiamo a trovare il buon Rafael Varane Un giocatore che insomma negli anni abbiamo imparato a conoscere benissimo 1,91, normale alto per lui Prima stagione fuori da quello che è stata la sua esperienza decennale praticamente al Real Madrid Carta velocissima Anche qui abbiamo dei discreti passaggi Addirittura qua l'equilibrio cala a 39 Ma vi ripeto non preoccupatevi per i difensori centrali 62 di agilità Abbiamo ottime statistiche difensive E un 86 di forza e un 80 di aggressività Non dovete poi dimenticarvi di Gustavo Aran Io ho preso la versione One to Watch ma di fatti stiamo parlando ancora della versione base E vi fa capire quanto questo giocatore sia davvero forte Se arrivati praticamente a dicembre sia ancora il top nel suo campionato Magari qualcuno di voi nei commenti mi chiederà di Van Dijk Soprattutto perché è stato piccato da parecchi di voi, ho visto Però la cosa che a me non convince di Van Dijk È che è un giocatore che ha un parametro estremamente falsato Quello della velocità Perché presenta sì 90 di velocità scatto ma 68 di accelerazione Vuol dire che sul primo metro, sui primi passi Vi va a perdere veramente tanto E prima di raggiungere la velocità massima ci mette un po' È in un gioco dove ci sono basati tantissimo i lanci lunghi e i filtranti a raso terra Secondo me non conviene andare a schierare quel Van Dijk E alternativa a basso prezzo, questo Varane è sicuramente un giocatore che va a rendere di più Quindi coppia titolare, Tony Rudiger e Rafael Varane A chiudere la difesa, come vi dicevo Terzino sinistro, seleziona la carta di Cancelo Team of the group stage 1,82m Alto normale anche qui il work rate che non è un problema come per Arnold 4-4 Un giocatore che è veramente devastante perché è velocissimo Ha degli ottimi passaggi, agilissimo equilibrio Ottime stats difensive Pecca solamente un po' in forza e in aggressività Però neanche troppo rispetto ad altri giocatori Ed è questo veramente un player a tutto tondo Che magari può anche essere giocato a centrocampo come mezzala O anche come mediano Qualora si voglia magari spostare a partita iniziata E in più vi dà anche la possibilità, come Arnold Di poter anche pensare di giocare in un modulo con i terzini sbloccati Perché c'ha veramente qualità palla al piede per poter far bene anche la fase di impostazione davanti Quindi veramente promossissimo questo Cancelo Che è anche interessante ed utile per andare a sbloccare eventuali triangoli di intesa per ibridare Cristiano Ronaldo Quindi top del top questo gioco e vale tutti i crediti secondo me che costa al momento Passiamo invece a centrocampo e vi vado a selezionare come esterno di destra Salah Team of the Group Stage A malincuore vi dico Perché io non sono un amante di Salah per colpa del treppiede debole Però questa è una carta veramente atomica Perché se voi siete alla ricerca di un esterno puro che corra Questo qua è un po' un giocatore alla Messi Perché è molto rapido, scattante, agilissimo Un ottimo tiro in particolare ha anche il traits del tiro a giro E in un gioco come questo dove il tiro a giro è veramente un'arma letale Insomma è veramente una risorsa in più Ha degli ottimi passaggi, vi dicevo dell'agilità Quell'80 di forza onestamente non si sente più di tanto Però a livello di spallate tiene molto bene botta con gli avversari Ha anche 94 di equilibrio quindi rimane quasi sempre in piedi E onestamente questo Salah in base a tutti quelli che sono i giocatori attualmente presenti in Premier League Secondo me è il miglior esterno destro che potete portarvi a casa Io lo giocherei però poi invertito a sinistra In maniera tale che ce lo abbiamo sul suo piede forte per lo speed boost O si può giocare anche a destra ovviamente se l'obiettivo è quello di rientrare e calciare a giro di sinistro Passiamo invece a quella che è la coppia di mediani E il primo ovviamente è Ngolo Kanté Sorriso ha 37.942 denti per lui, sempre contento 1,68 m normale alto Giocatore estremamente rapido In particolare con l'84 di agilità lo rende un demonio con l'L2 94 di aggressività significa che si attacca all'uomo e tanto si scolla quando gli ha rubato via il pallone E in più è un giocatore estremamente automatico così come la sua versione base Infatti quel 92 di intercettazione e quel 91 di lettura difensiva parlano per lui Parliamo di una carta che è veramente un incubo Ogni volta che ce la ritroviamo contro al centrocampo recupera un sacco, un sacco, un sacco di palloni In questa versione i passaggi non sono neanche malissimo Il problema sta un po' in quel 3 di piede debole che non lo aiuta quando magari si ritrova a passare la palla col sinistro E in un gioco come questo dove è utile girarsi e rigirarsi per cercare lo spazio Può succedere che si ritrovi sul sinistro e quindi sbagliare Però rispetto alla carta base non c'è neanche dei passaggi così male almeno statisticamente E quindi per me rimane assolutamente il top in Premier League E il suo compagno di reparto è un giocatore che è veramente spaziale E può trovare veramente spazio in tutte le squadre possibili e immaginabili se si riesce ad ibridare Parliamo di De Bruyne colpo di mercato Alto, alto, 1,81m, 4 di skill e 5 di piede debole Veramente distruttiva questa carta Velocissimo, ottimo tiro, passaggi allucinanti Agile, equilibrio, reattivo, forze e aggressività Pecca solamente un po' in fase difensiva Ma in un gioco come quello soprattutto di PS5 Dove i mediani sono aiutati tanto dall'hypermotion Quindi vuol dire che si muovono molto bene in automatico come vi dicevo Questa carta qua può fare tranquillamente anche il mediano in un 4-2-3-1 In un 4-4-2 come il modulo che stiamo utilizzando in questo momento E in più associa un'ottima fase offensiva Tant'è vero che io questo lo giocherei senza restare dietro in attacco Perché ve lo ritrovate come regista aggiunto in fase offensiva E spaventa gli avversari anche se arriva con la possibilità di andare a calciare Quindi De Bruyne è veramente il compagno perfetto di Kanté Che magari è solamente un po' più difensivo Arriva poi De Bruyne che fa invece tutto quanto Quindi veramente è il top con un bell'ombra Questo è il giocatore che chiude il cerchio a centrocampo Come esterno a sinistra Nel marasma più totale Io sono andato a selezionare Diogo Iota Parliamo di un giocatore veramente anche qua devastante 1,78m alto alto 4 di skill e 5 di pede debole per lui Molto molto buono perché è agilissimo Ha quell'89 di aggressività che è quel qui di in più Anche se dovete recuperare dei palloni in fase difensiva Ha degli ottimi passaggi Un ottimo tiro e finalizzazione Veramente questa è una carta speciale Che per me prevale su tutto quello che è il discorso di esterni al momento a sinistra in premier Che però poi andremo a vedere anche in panchina perché alcuni giocatori li ho voluti comunque portare per spenderci due paroline Ma Diogo Iota per me ha un qualcosina in più rispetto agli altri Passiamo invece a quelle che sono le due punte E la prima è Cristiano Ronaldo Quello che io ho selezionato è il base Ma ovviamente il migliore è il team of the group stage Che per me da quello che ho provato perché l'ho provato Ha degli upgrade che si sentono rispetto a questa carta qua Non me ne voglia il maestro Però l'ho trovato molto più agile Soprattutto quello che mi ha stupito sono i passaggi E in particolare la finalizzazione col sinistro Che sembra migliorata incredibilmente Ronaldo non è un giocatore che ha bisogno di presentazioni Magari quest'anno non è più rapido come gli altri anni Ma finalizzazione della madonna C'è anche dei discreti passaggi Agile questo qua vi ripeto Magari non tantissimo Quello team of the group stage sicuramente sì Però parliamo di una carta che ovviamente in una premier league Se andiamo a giocare due punte non può mancare E a chiudere ovviamente non può mancare il buono Hong Min Son Perché 4 di skill e 5 di piede debole Una sorta di bay header ovviamente con tutt'altro body type in premier league Velocissimo Finalizzazione incredibile Passaggi il corto soprattutto molto buono Quello 87 di agilità non proprio il top Visto che comunque è un giocatore di 1,83 m Quindi non propriamente brevilinio E un po' anche il body type non lo aiuta in quello Però Son secondo me è il compagno di reparto Ideale per Cristiano Ronaldo Quindi gli undici titolari sono questi Le alternative secondo me più valide che ho selezionato Sono come esterni Mané e Call Perché parliamo di due giocatori che sono entrambi 4-4 Quindi magari anche rispetto ad un Salah Il buon Call riesce ad avere quella più di piede debole Che può dare una mano Mentre Mané da quest'altro lato al posto di Yota C'ha il fatto che ha uno speed boost levemente migliore Visto che è dotato di lunghe leve E alle volte prende molto più campo rispetto a Yota Che è un brevilinio Per quanto riguarda un altro super sub Rispetto alla squadra titolare che ho selezionato In attacco abbiamo Robby Keen Che è un altro giocatore super interessante Che ho deciso di portare rispetto a tanti altri Che ci sono in Premier League Perché soprattutto con tutte le sfide Heroes Che ci sono state È possibile che voi ve lo siate ritrovato non scambiabile Questo è un giocatore spesso sottovalutato Perché 1,75 m4-4 Agile, ha un ottimo tiro Discretamente veloce Passaggi tranne il lungo Non se la cava manco malissimo Secondo me questo Robby Keen È una carta che viene ignorata Ma comunque come dico anche nella tier list Delle Icon Delle Heroes Per me può dire tranquillamente la sua Soprattutto in un attacco a 2 Quindi ragazzuoli Per quanto riguarda questo top of the league Per la Premier League È tutto Fatemi sapere che ne pensate nei commenti Vi ricordo che come al solito Ragazzi Queste sono le mie opinioni Poi ci tengo a sapere nei commenti le vostre Anzi Apriamo sempre dei bei dibattiti Come succede spesso Vi ricordo che in descrizioni Trovate tutte le info Per le live giornaliere In più tutti i miei partners A me non resta altro che augurarvi Una buona serata E un salutone al vostro Iberowski Ciao